A Teramo prosegue spedito l'iter per l'avvio dei lavori di riqualificazione di Piazzale San Francesco grazie al nuovo terminale dei Pullman. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori, l'azienda dei trasporti regionale Tu ha annunciato che nel mese di gennaio verranno avviati gli interventi che dovranno essere completati in 180 giorni. Abbiamo approvato il progetto come comune di Teramo a maggio di quest'anno e oggi in tempi molto stretti arriviamo a comunicare l'inizio dei lavori nelle prossime settimane. È una riqualificazione importante, fondamentale per la nostra città, un'autostazione che diventa un hub di mobilità degno di una città capologo di provincia. Questo volevamo attraverso il ripristino di condizioni di sicurezza, attraverso il ripristino di situazioni di decoro, una funzionalità anche sotto l'aspetto energetico e si va ad inserire all'interno di un percorso di mobilità sostenibile che stiamo costruendo in tutta la città. È un momento straordinario per la nostra città e questa riqualificazione si inserisce assolutamente nel percorso di rigenerazione urbana, sociale, economica che fa della mobilità sostenibile un punto di riferimento per il territorio. Il progetto disegna un nuovo profilo più funzionale, efficiente e decoroso dell'autostazione trasformando l'attuale sito in vero e proprio terminal dotato di tutte le installazioni che adesso sono proprie. Il fabbricato servizi sarà completamente ristrutturato, al suo interno barra, biglietteria e prevede anche l'installazione di impianto fotovoltaico. È prevista la predisposizione per l'impianto di videosorveglianza ma soprattutto, e questo tengo a rimarcare, l'obiettivo dell'azienda di TUA, quindi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è di curare molto l'attenzione sulle persone a scarsa e ridotta mobilità. Questo che significa? Significa avere percorsi definiti, dedicati, avere rampe con leggera pendenza, servizi igienici previsti anche per le persone disabili, oggi non ci sono, quindi una massima attenzione a queste problematiche di sicurezza e di disabilità, quindi abbattimento di barriera architettonica.